Un polo liceale a Gubbio che comprende tante possibilità per i ragazzi che poi possono guardare al futuro davvero in diverse ottiche. Parliamo di un indirizzo artistico, del classico, indirizzo classico e poi dello scientifico e di scienze umane, con particolare riferimento poi al sportivo che è la New Entry, ma di questo parleremo successivamente. Questi quattro indirizzi, questi quattro filoni, perché potrebbero e dovrebbero interessare i ragazzi, non soltanto i Gubbini ovviamente, ma di tutto un comprensorio ben vasto? L'istruzione liceale sicuramente è un'istruzione importante, è un'istruzione altamente formativa. L'istruzione liceale è un investimento sicuro per quanto riguarda il futuro di ogni ragazzo. Quest'anno si celebrano addirittura i 90 anni della nascita del liceo classico a Gubbio, che rimane il nucleo centrale di questo polo liceale. E non è un caso che l'offerta formativa per quanto riguarda appunto il polo liceale si arricchisce proprio quest'anno di un percorso formativo in più. Credo che qualunque famiglia abbia voglia e qualunque ragazzo abbia voglia di approcciare ad un indirizzo di studi di altissimo livello, culturalmente importante e di largo respiro non possa che orientare le proprie scelte verso il polo liceale, che appunto comprende tutte le attività liceali che sono presenti nel panorama scolastico italiano. Quest'anno si arricchisce, dicevamo prima, con l'introduzione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo. E' la novità assoluta che coniuga quindi la tradizione antica e storica del liceo classico con la modernità di un nuovo indirizzo di studi. Un gioco di parole, professor Serati, ce lo permetta? Il classico liceo classico. Che indirizzo è? Come formi ragazzi? A che cosa e come? Beh, l'indirizzo classico diciamo che coniuga tradizione e innovazione al tempo stesso. Dà una solidissima base culturale che è di carattere filosofico letterario, storico, umanistico, ma anche scientifico, proiettata anche sulle lingue moderne, anche sulla capacità progettuale, sul metodo di lavoro e sul metodo di studio, sulla decodificazione linguistica che è un elemento fondamentale per affrontare qualunque tipo di studio. Devo dire anzi che negli ultimi anni molti dei nostri studenti si sono orientati più verso il versante scientifico, per esempio medicina, ingegneria, economia, che verso quello umanistico, a dimostrazione del fatto che appunto è una formazione diciamo a 360 gradi. E debbo dire che la competenza linguistica, che è un elemento assolutamente fondamentale, ha fatto sì che noi abbiamo sfornato tantissimi giornalisti, professionisti a vari livelli, dal livello cittadino, ma anche umbro, nazionale e addirittura direi internazionale. E questa è la riprova che appunto questo lavoro sulla lingua, la lingua madre, le lingue antiche, il greco in particolare, che è ovviamente lo specifico della formazione classica, ma anche le lingue straniere, rappresentano naturalmente uno strumento di cultura e anche di competenza che può essere utilizzato in ogni campo del sapere. E allora di andare a scoprire che cosa vuol dire indirizzo scientifico qui al Mazzatinti, e lo facciamo con la professoressa Lucia Sabatini. Di che indirizzo stiamo parlando? Cosa devono aspettarsi gli studenti? Devono aspettarsi di essere gli eredi di Galileo, devono aspettarsi di essere i figli di Enrico Fermi, devono aspettarsi un metodo che li aiuti a scoprire perché le cose funzionano in un certo modo piuttosto che in un altro. E lo scopriamo sempre e esclusivamente attraverso i laboratori. Abbiamo dei laboratori eccezionali che ci consentono veramente di capire perché le cose funzionano, come possiamo fare a cambiarle, come possiamo cambiare tutto quello che ci circonda. L'indirizzo scientifico è tutto questo, è capacità di sapersi esprimere, è capacità di saper elaborare le proprie idee, è capacità di imparare ad imparare. È un indirizzo moderno, è un indirizzo proiettato verso l'Europa, è un indirizzo in cui stiamo cercando di lavorare per l'Europa. Inseriamo l'inglese anche in altre materie non curricolari, inseriamo l'inglese in materie che siano curricolari. Parliamo inglese quando facciamo matematica, quando facciamo fisica. Cerchiamo di dare ai nostri ragazzi la possibilità di essere pronti per il mondo. Di quale materie in maniera particolare si caratterizza questo indirizzo scientifico? Al contrario di quello che possiamo pensare, non c'è solo matematica, non c'è solo fisica, né solo biologia. Abbiamo tantissima lingua, sia straniera che lingua italiana. Noi coltiviamo moltissimo l'uso del latino, proprio perché attraverso il latino riusciamo a parlare meglio in italiano. E sapersi esprimere è tanto importante quanto saper le cose. Polo liceale e c'è anche l'indirizzo cosiddetto delle scienze umane, ma che cosa vuol dire? Cosa suono le ragazze e i ragazzi? Allora, l'indirizzo delle scienze umane è un indirizzo che pone l'attenzione sulla condizione umana e quindi su tutte quelle discipline che ovviamente hanno come la centralità l'uomo. Quindi la psicologia, la sociologia, l'antropologia e la pedagogia. Accanto ovviamente alla filosofia essendo un indirizzo liceale. E questo ovviamente, diciamo, lo studio di queste discipline porta ad acquisire delle competenze relazionali, comunicative da usufruire poi da parte dello studente nel settore sociale, soprattutto per quanto riguarda le varie aree o fasi, come vengono chiamate in psicologia, dello sviluppo umano. Quindi nel settore dell'infanzia, dell'adolescenza, nel settore degli anziani e anche delle diversità di qualsiasi genere. Ovviamente essendo un percorso liceale quinquennale, al termine degli studi, gli studenti possono iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Anche se noi ovviamente consigliamo tutte quelle facoltà che hanno uno sbocco sul sociale, quindi, che ne so, psicologia, sociologia, ma anche lettere, anche scienze dell'educazione, oppure tutte quelle facoltà che riguardano il paramedico e anche il medico. Questo ovviamente permette poi di poter lavorare non solo su settori praticamente riguardanti specificatamente, che ne so, l'umano, ma anche la condizione umana, ma anche, diciamo, la ricerca. Può servire a questo. Non esclude però, ovviamente, che essendo, diciamo, un corso che permette, avendo, scusatemi, avendo anche delle discipline come il diritto, come il latino, possono, diciamo, iscriversi anche a settori, quale giurisprudenza, scienze sociali e così via. Quindi una formazione su se stessi guardando al futuro della professione, ma anche una formazione, un arricchimento personale. Certo, ovviamente, studiando la psicologia, l'antropologia, la sociologia, ma anche la pedagogia, perché tu, diciamo, entri in contatto con il concetto di educazione, no, di formazione, riesci praticamente ad autoformarti e quindi riesci praticamente a preparare la tua personalità, la tua identità, e a rapportarti meglio anche con gli altri, con i tuoi, con i tani, no, gruppo dei pari, come viene definito in psicologia, e con gli adulti, quindi, che possono esserti da modello e da, diciamo, da guida. Con il professor Roberto Pezzopane andiamo a scoprire nel dettaglio l'indirizzo del liceo artistico da un professore che ora insegna qua e prima proprio studente entrato al Mazzatinti. Beh, sì, io sono stato studente un po' di anni fa, oramai, quindi ho vissuto un po' la trasformazione dell'istituzione artistica dal vecchio istituto d'arte al nuovo liceo artistico. Ovviamente tutte le trasformazioni comportano dei miglioramenti e a volte a qualcuno dispiace lasciare ciò che è sicuramente concreto e ben stabilizzato. E, che dire, il liceo artistico ha indubbiamente fatto un passo avanti rispetto alle vecchie istruzioni per quanto riguarda la completezza degli studi. Noi, nel piano degli studi di 34 e 35 ore settimanali, e che comunque sono raggruppate tutte nella mattinata, anche per dare possibilità agli studenti che vengono da fuori di poter frequentare in modo tranquillo e avere senza problemi i trasporti. C'è questo mix di materie, diciamo, culturali, dette materie di base, unito alle materie specifiche di settore. Nei tre indirizzi che sono stati attivati, attivabili, dal nostro liceo artistico, sono arti figurative, diciamo che prettamente tratta più dell'aspetto dell'arte in to-curre, in senso generale, quindi magari più adatto anche per chi vorrà proseguire gli studi nell'Accademia delle Belle Arti e in facoltà molto simili. Poi c'è l'architettura ambiente, che riguarda l'aspetto non solamente del costruire, quindi dell'architettura, ma anche tutto ciò che è legato all'ecosostenibilità, al territorio, alla bioarchitettura, e quindi diciamo a un mix abbastanza complesso di materie tecniche e materie di disegno. Noi sviluppiamo molto con il computer 3D, ma non disdegniamo anche l'utilizzo del laboratorio, dove costruiamo modellistiche, facciamo lavori di modellistica, con materiali legno, plastica e quanto altro, per dare appunto ai ragazzi questo modo di intendere l'arte, non solo come qualcosa di vago, ma intendere l'arte come qualcosa di costruttivo e che serve per la società. Spesso si dice che un artista è qualcuno un po' fumoso, non ben individuabile. Noi siamo concreti perché diamo un'arte comunque applicata e quindi c'è un prodotto. Se noi pensiamo a quanti oggetti utilizziamo nella nostra società, dall'abbigliamento che indossiamo a tutto ciò che utilizziamo, ovviamente non nasce come i funghi dalla mattina alla sera in un prato, ma è un'idea materializzata di un qualcuno che pensa e dà gli strumenti per poter poi realizzare all'industria questi oggetti. Quindi io dico che ce n'è bisogno di queste persone nella nostra società. Il terzo è il design che tratta l'aspetto dell'interior design, industrial design e che comunque non può essere mai slegato a quello che riguarda l'architettura. Quindi diciamo abbiamo un bel mix in questi tre indirizzi per poter soddisfare le esigenze di chi è creativo o chi comunque si voglia cimentare in questo settore che è un po' di nicchia, è vero, però vedo che persone, ragazzi, molto motivati poi riescono ad avere altri risultati. Come quest'anno abbiamo avuto un quarto premio in concorso di design indetto dal mio, dal Ministero, dove su 500 progetti uno dei nostri ragazzi è arrivato quarto e l'altro è arrivato nei 50 finalisti. Quindi implicitamente un po' anche detto che cosa dà questa offerta formativa è nel proseguo degli studi. Molti ragazzi proseguono gli studi in architettura, altri in design, altri in accademia o comunque studi affini e altri comunque possono frequentare avere accesso a qualsiasi tipo di facoltà così come con gli altri indirizzi liceali.